Cari amici, siamo a Tacoma, nello stato di Washington, Stati Uniti. Il primo luglio del 1940 viene inaugurato il Tacoma Bridge, uno dei ponti sospesi più lunghi al mondo dopo il Golden Gate Bridge di San Francisco e il George Washington Bridge di New York. Questo lungo ponte sospeso detiene un record, rimase in piedi per soli 129 giorni. Il ponte attraversava il canale di Puget Sound nel punto più stretto, ovvero il Tacoma Narrows, che separa la città di Tacoma dalla penisola di Kitsap nei pressi di Gigerbor. Uno stretto largo circa 1400 metri, con una profondità che superi i 60 metri e forti correnti di marea che raggiungono una velocità di quasi 4 metri al secondo. La prima proposta di realizzazione era della Northern Pacific Railroad Company e risale al 1889, ma non venne presa in considerazione. Forti spinte per la realizzazione dell'opera si ripresentarono a partire dal 1923 e nel 1926 la Camera di Commercio di Tacoma approvò una campagna di ricerca fondi per la costruzione di un ponte, avendo la necessità di ridurre le distanze di guida tra Tacoma e le città sul versante opposto del canale. Solamente sul finire del 36 si ebbe la svolta, grazie allo scadere di una concessione al traghetto che univa le due sponde e all'aumento dei finanziamenti pubblici sotto il New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Clark Erich, l'ingegnere capo del progetto dello State Highways Department, sviluppò il progetto originale del ponte dalla fine del 1937 alla primavera del 1938. Il suo ponte sospeso a due corsie con carreggiata di 7,92 metri aveva una campata centrale di 792 metri e due laterali da 396 metri. Prevedeva un impalcato eticolare largo 11,90 metri come la distanza tra i cavi ed alto 7,60 metri. Le torri a portale avevano altezza diversa per compensare la differenza di quota tra le sponde d'accesso. L'estremità di Tacoma era quasi 6 metri più in alto, quindi la torre est era alta 145 metri e la ovest 141 metri e presentavano 5 traversi al di sopra dell'impalcato e 3 al di sotto. Ma il progetto di Erich verrà radicalmente modificato quando la State Toll Bridge Authority ha richiesto i fondi federali alla Public Works Administration, che si accollò il 45% dei costi di costruzione. Questi ultimi imposero alle autorità dello Stato di Washington di assumere un consulente esterno, con maggiore esperienza nella progettazione di questo tipo di ponte. Fu richiesto Leon Salomon Moisieff, considerato una delle massime autorità dell'epoca in materia di ponti sospesi. Il progetto di Erich venne spazzato via dalla matita di Moisieff, riducendo il costo dell'oper da 11 a 7 milioni di dollari. Il progetto di Moisieff prevedeva le stesse specifiche di base per la larghezza della carreggiata e la distanza da centro a centro tra i cavi, ma incrementava la luce della campata centrale a 854 metri e riduceva quella delle campate laterali a 335 metri. L'impalcato non prevedeva più una generosa struttura reticolare, ma una coppia di travi a doppia T alte appena 2,44 metri, alleggerendo la struttura con un rapporto tra la lunghezza della campata e lo spessore di 1 a 350. Moisieff non condivideva l'idea di avere torri di diversa altezza e ne propose due uguali da 130 metri, con due traversi al di sopra dell'impalcato e due al di sotto. Il progetto, composto di 39 tavole, fu terminato velocemente nell'agosto 1938. Il 23 novembre cominciò la costruzione. Il ponte fu aperto al traffico il primo luglio 1940 ed il costo finale dell'opera fu di 6,6 milioni di dollari. Sin dalle ultime fasi costruttive, il ponte aveva mostrato rilevanti oscillazioni verticali, che gli valsero il soprannome di Galloping Gatey, proprio perché sembrava un cavallo al galoppo. Prima ancora del suo completamento, nel giugno 1940, furono installati in mezzeria dei cavi obliqui di ritegno tra le funi e l'impalcato, per aumentare la rigidezza e limitare gli spostamenti. Furono inoltre installati dei dissipatori idraulici tra l'impalcato e le torri. Malgrado le contromisure adottate, dopo l'apertura le oscillazioni continuarono e numerose testimonianze di automobilisti rivelarono che, durante l'attraversamento del ponte, era possibile veder scomparire e riapparire più volte l'automobile che precedeva. Alla fine di luglio fu avviato un programma di monitoraggio, il cui obiettivo era quello di correlare la direzione e la velocità del vento alla risposta strutturale. Per tutto il mese di agosto e per la prima settimana di settembre furono registrate in continuo la velocità del vento e l'ampiezza delle oscillazioni. Al fine di stabilizzare la campata est e nell'attesa di una soluzione definitiva, il 4 ottobre furono installati in via temporanea dei cavi inferiori di ormeggio, collegati a dei blocchi di ancoraggio. La stessa operazione fu ripetuta tre giorni dopo per la campata ovest. Inoltre, gli ingegneri dell'Università di Washington proposero due possibili modifiche al ponte per risolvere il problema delle eccessive oscillazioni. Una prima soluzione consisteva nel creare dei fori all'interno delle travi laterali del ponte per eliminare l'ostacolo al flusso del vento. Una seconda soluzione proponeva l'installazione di un profilo curvo per migliorare l'aerodinamicità del ponte e far divergere il flusso del vento sopra e sotto la campata. Ma ormai era troppo tardi. La mattina del 7 novembre, alle ore 8, la velocità del vento aveva raggiunto 17 metri al secondo. Alle 8 e 30, Eldridge attraversò il ponte, notò che le oscillazioni erano comunque inferiori a quelle che in passato avevano interessato l'opera, pertanto tornò in ufficio. Alle 9 e 30, i cavi obliqui installati a giugno si spezzarono o persero la loro tensione, permettendo alla struttura di muoversi più ampiamente. Alle 9 e 45, il professor Frederick Barth Farganson, docente di ingegneria presso l'Università di Washington, arrivò sul posto. Il ponte si stava muovendo con il familiare movimento ondulatorio che lui stesso stava studiando in Galleria del Vento e cercando di correggere. Portò con sé una cinepresa per documentare quanto stesse accadendo. Alle 10, l'ultima auto a passare sul ponte era quella di Leonard Cotsworth, un redattore di notizie per il Tacoma News Tribune, diretto verso il cotta gestivo di famiglia sulla penisola. Sul sedile posteriore si trovava il cane di sua figlia, un cocker spaniel nero di nome Tubby. Cotsworth pagò il pedaggio e si tiresse verso la campata ondeggiante. Alle 10 e 03, la campata centrale iniziò a torcersi inspiegabilmente. Fu un fenomeno mai visto prima. Il ponte continuava a deformarsi con una torsione sull'asse longitudinale osservata pari a 45 gradi in un verso e poi nel verso opposto, con un movimento dei cavi di circa 8,5 metri. Gli anemometri indicarono una velocità del vento di 18,8 metri al secondo. Con la sua auto, Cotsworth aveva ormai superato la East Tower di almeno 150 metri, quando l'oscillazione scagliò la sua auto contro il marciapiede. Saltò giù dall'auto e iniziò a strisciare nella direzione da cui era venuto, lasciando il suo cane in auto. Alle 10 e 15, Erridge tornò al ponte e lo vide torcersi selvaggiamente, al punto di poter vedere il lato inferiore mentre si inclinava. Alle 10 e 30, un tratto di banchina dal centro del ponte precipitò in acqua. Il fotografo Howard Clifford si avventurò sul ponte per salvare Tabby, ma non riuscì e tornò indietro. Verso le 10 e 55, Farcanson, chiamava i cani, decise di provare a salvare Tabby. Ma quando entrò in macchina, il cane, terrorizzato, gli morse un dito. Le oscillazioni erano enormi e il professore tornò alla Torre Est appena in tempo. Alle 11, un tratto della campata centrale di circa 182 metri oltre la metà del ponte, in direzione della Torre Ovest, precipitò in acqua. Questo portò a una momentanea riduzione delle oscillazioni di quello che rimaneva della campata centrale e all'inizio dell'oscillazione delle campate laterali. Alle 11 e 10, quello che rimaneva della campata centrale collassò e precipitò in acqua. Essendo una struttura progettata in equilibrio di forze, questo brusco rilascio di carico dovuto al collasso della campata centrale provocò una violenta deformazione verso il basso delle campate laterali e la flessione verso costa delle due torri di ben 7,6 metri, determinandone una deformazione plastica irreversibile. Lo stato di Washington, le compagnie assicurative e il governo degli Stati Uniti richiese un'indagine sul crollo del Narrows Bridge. John Camerdy, amministratore della Federal Works Agency, nominò un gruppo di ingegneri di alto livello. Il loro rapporto divenne noto come il rapporto Camerdy Board, la cui conclusione fu che il ponte crollò a causa dell'azione casuale del vento turbolento. Questa ambigua spiegazione fu l'inizio dei tentativi di comprendere il complesso fenomeno del movimento indotto dal vento nei ponti sospesi. E quindi, com'è possibile che questo ponte sia crollato? La causa del crollo del Tacoma Bridge è dovuta a un fenomeno di instabilità aeroelastica noto come flutter. Avendo una bassissima rigidità torsionale, questa instabilità che possiamo definire uno sventolio del ponte ha dato origine a una modifica nella struttura dell'aria che colpiva il ponte stesso, generando dei moti dell'aria noti come scie vorticose di Von Carman. La formazione dei vortici di Von Carman fu causata dalla forma della sezione trasversale dell'impalcato, che non era per niente aerodinamica. Questi vortici alimentarono il moto della campata del ponte fino al suo stato limite. Dopo questo disastroso crollo, il Tacoma Bridge fu ricostruito ben dieci anni dopo con un progetto del tutto simile a quello iniziale di Erich, ed è ancora in piedi. Il suo soprannome è Sturdygeddy. Sturdy significa robusto. Nel 2007 venne inaugurato un secondo ponte parallelo al primo per far fronte al vistoso aumento della popolazione. Ad oggi, il Tacoma Narrows Bridge è la copia di ponti sospesi più lunga al mondo. Il caso del crollo del ponte di Tacoma ha avuto grande risonanza all'interno del mondo accademico. Infatti, ha favorito numerosi studi per il miglioramento dell'aerodinamica delle grandi strutture e la messa a punto di nuove tecnologie di monitoraggio. Oltre agli sviluppi formali, gli esperti hanno sviluppato sistemi di simulazione per testare i progetti prima della costruzione, ricreando le condizioni di vento che poi andranno ad agire sui modelli in scala delle strutture. Grazie a tutti.